benvenuti in questa nuova pausa caffè sto preparando l'attrezzatura per andare a fare due riprese con la neve ma prima aldo ricci presenta pausa caffè pausa caffè girano i dischi di aldo ricci come potete vedere da qui io sto finendo di montare il cage della lux circle sopra alla gh 5 in modo tale da avere tutto il supporto necessario alle ventose così posso attaccarmi su vari punti ok questa è pronta l'ottica la possiamo montare ok andiamo bloccare la camera qui sotto con questo che però mi sembra largo perfetto il cage è pronto indistruttibile pronta allora batteria già c'è vediamo se carica sì perfetto due tacche qui ce l'abbiamo ci portiamo questa ottica e ci portiamo il 20 mm poi devo prendere lo zaino delle ventose questo qui quindi non ci sono tutte le ventose ci hanno portato questo e lo apriamo eh ste cose non si fanno non si fanno però stiamo in un parco di gioco su piedi si può fare adesso attaccheremo un po' di una camera su una ruota insomma proveremo a fare un po' di inquadratura particolari mentre la macchina sgomma prima inquadratura mettiamo qua inquadratura verso la ruota di dietro vediamo che succede ciao Grazie a tutti Ragazzi adesso andiamo a vedere come sono usciti dei clip Niente, era una posa caffè un po' diversa L'ho sfruttato la neve per farvi vedere anche un po' di tecnica Ci vediamo alla prossima posa caffè Girano i dischi di Aldo Ricci Grazie a tutti Grazie a tutti